amici telespettatori siamo qui riuniti oggi perché voglio parlarvi di un kit eccezionale il prodotto più famoso del mondo voglio parlarvi di miracoltelli ecco partiamo subito da questo fantastico macete ma guardate il design i fori per far scorrere sangue evidentemente c'è lo stile lo stile senza contare del moschettone pratico per portarlo in giro la sera quando vuoi anche perché è comodissimo peserà due o tre chili cioè niente niente e voi vi chiederete ma una cosa del genere quanto è che potrebbe costarmi perché c'è stile questo quindi dovrebbe costare caro e invece ve lo dico io praticamente niente solo 999 euro hai capito bene sì 999 euro ma che cazzo sono al giorno d'oggi 999 euro eh meno di un caffè al giorno meno di un caffè al giorno e quindi oh tu da me che cazzo vuoi te l'ho detto devi stare zitto e quindi dovete dovete davvero avere una cosa del genere ma sentiamo subito i nostri clienti soddisfatti grazie mirko per la tua chiamata e vabbè passiamo subito al c'è un'altra telefonata mi rispondi dai pronto pronto un cazzo sono rast mi sono arrivati i vostri coltelli di merda ma sono una cagata e non tagliano un cazzo sono fatti di cazzo tu hai detto pagliaccio tu non sai cosa vuol dire tagliare ma stai zitto tu evidentemente non hai comprato il kit originale pagliaccio ma che non ho preso originali c'è sulla vostra faccia di merda sopra porca puttana ti faccio vedere io come tagliano questi coltelli verrai sicuramente ricontattato dal nostro servizio clienti cretino ma che servizio clienti di merda ma che cazzo fate lì dentro stai un po calmino il cazzo di soldi che sto spendendo per questa telefonata di merda chissà quanto cazzo costa dici che coltello non taglia eh? che cazzo fai qua? prova a vedere se non taglia adesso la mia mano porca di... evidentemente è saltata la comunicazione ma passiamo subito al nostro secondo prodotto questa fantastica ascia ok? in stile vichingo minimal davvero adatta anche lei alla vita di tutti i giorni ottima per tagliare la legna litigare col vicini beh qualsiasi cosa fantastica e quindi dovete chiamare chiamate 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 si è una chiamata abbiamo sistemato tutto ha visto che con te lo taglia molto bene si guarda tu stesso come guarda tu stesso? ah vai a prendere quindi questi fantastici... ah vediamo qui un attimo cosa... bene bene quindi allora il nostro tempo è finito niente ricordo a tutti che alle prime 50 chiamate in regalo avranno la videocassetta di Godzilla no Gozingaro il mio film preferito si mi è sempre piaciuto un casino e si si fantastico e a estrazione anche una mano ferma carta quindi ricordatevi miracoltelli soddisfatti o meno mati